Quindi, direi che per movimento abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare Salamina non posso fare niente Però stiamo facendo la produttività di Anfore che mi piace La nostra flotta l'abbiamo mossa C'è sempre quella serie da fare ma forse lo facciamo questo turno Patto di non-aggressione con cartaggine Sì, mi piace Allora, i Cush mi fanno un patto di non-aggressione e accetto Mi piace, perché adesso voglio pensare al punto Paggine a battaglia, accordo commerciale Sì, ok, rafforziamo adesso questa frontiera Paracusia è alleata mia, no? No No Pace negoziata, punto di Armenia Un fio è diventato adulto zenone, me lo ricordo Ingegneria, perfetto Possiamo fare il fabbro Allocoramento d'assedio, sì Questo è tutto per l'assedio, quindi Questo è tre turni, questo è tre Ah, una torre mobile, vai Sì, qui subiamo un po' di attrito Oh, abbiamo fatto le anfore E a Salamis posso fare il pesce Tars la potrei anche ingrandire Sì Popolazione ispirata Egitto Locoramento 85 Prima ne portavamo 91 Allora, questo è un bel esercito 20-20 Qui sarebbe interessante Capire dove poter andare Eh, magari qui Certo è un bel viaggio, eh Ai 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 No, 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 no Passiamo per di qua Sì Anche voi Eh, il punto Sarebbe bello prenderlo Adesso voi vi muovete qua Posso reclutare qualcosa in Egitto? Sì Dei picchiari di leva Ma credo che sia meglio qui ad Antioche Sparta Vai Questa è a Siracusa, no? Sì Siracusa Questa è l'epi... Questa è Atene? La citerbolina No, guarda, senti Credo sia arrivato il momento di ritornare a casa Sì Allora, qui ci siamo Qui ci siamo Qui ci stiamo muovendo Qui abbiamo fatto Memphis Posso fare questo Tarso Palmira Gerusalemme Potrei fare l'olivo Più uno all'ordine pubblico 96 15 Più 10 ricchezza derivate dall'agricoltura Più 2 al cibo Oppure posso fare questo Lanceria a cammello Cavalleria cittadina Obliti Arceria e peltasti Non l'avevo fatto da qualche parte Arceria e peltasti Eh, qui in Siria In Siria ho Arceria e peltasti Santeria Potrei farci della cavalleria qui Sì, facciamo della cavalleria qui E a questo punto Allora, questo, questo e questo Ah, e poi c'è questo Sì, io direi di lanciare il nostro assalto Battaglia di Alexandria 247 a.C. L'orgoglio di Pericle Che dovrò rinominare Contro l'esercito di Guarnigione La flotta di Guarnigione E le correnti azzurre Allora, schieramento completato Diviso in due gruppi Uno su questo lato Sperando che riesca a passare E quello, diciamo Un po' più consistente Su questo Dove ci concentreremo Su questa zona qua Ma a quanto pare I rinforzi nemici Si stanno avvicinando Queste macchine d'assedio Non servono a niente Qual è lo scopo di questa Macchina d'assedio Se non si avvicina Sì, in teoria Questa si può avvicinare Magari facciamo una mossa diversiva Veloci Ah, potremmo fare che Questi ce l'hanno La macchina Sì Ok 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 Questa collinetta Sì, riusciamo a superarla Ok Ok Qui siamo arrivati Andiamo da questi Carceri pure Prendiamo posizione qui Ok Anche qui Oddio qui Da un certo punto di vista bene perché Stiamo attirando l'attenzione su questi Qui si stanno avvicinando Eppure Ok voi Lasciate E ci posizioniamo qui Carichiamoli Tutti potrebbero dire Gli arcieri forse hanno sbagliato scala È una mia supposizione Eh la porta che fa è aperta Sì ma Cavolo Sono più del previsto Ok Salire anche con le scale Voglio combattermi questi Ok Ok Di qua Forse portiamo qui altri rinforzi Però questi sono cavalieri Eh questo è un fianco bello messo male Ok Beh questi sono morti I nostri uomini vacillano Ah qui li abbiamo presi Vai 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 Ok Qui spostare di rinforzi Questi sono nemici Ok Arrivano le forze Non vi preoccupate ragazzi Ok Ok La porta è quasi presa Quindi questi possono lasciare La torre Bene così Qui come procede Qui è tutta cavalleria Quindi io qui sposterei un'altra unità Eh questi sono pochi Eh questi sono pochi però Vabbè Come supporto Prendiamo commissione Eh lo so Però posso muovere la cavalleria Però posso muovere la cavalleria qui Vediamo qualche carcere Oh questo è arrivato Perfetto Riporzi Gli arcieri Salgono qui Cavalleria Vedo che qui Abbiamo trovato qualcuno Ma attenzione Hanno lanci Metti gli affalange E questo l'abbiamo preso Perfetto Qui stiamo sfondando Guarda ragazzi Ah qui la galleria sarebbe bello caricare Ma Aspetta Ralenta Prendiamo questi La battaglia sta volgendo il nostro favore Dietro Pic Come non detto Attacca questi La cavalleria qui E' schierata Questi possono Attaccarmi Questi Tenendo la posizione Mentre la cavalleria Va contro questi Sì Qui come procede Qui stanno fermi Imbambolati Correre 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 Si era un attimo Bloccato Poi qua giù Eccoci qua Ah 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 No 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 Anche se la stiamo conquistando Però Servono truppe Archeri Contro questi Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon No, 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 tornate assolutamente indietro. Questi li possiamo fare entrare. La cavalleria. Torno indietro. Cosa, non hai capito di disingaggiarti? Eh sì, devo aspettare l'arrivo dei rinforzi. Ecco, direi che ci siamo. Abbiamo conquistato una torre! Voi qua, voi qua. Il mio elefante è entrato in città. Perfetto. Non so se questi muoiono prima di... Proviamo. Questa è la cavalleria. Quasi una piccola carica consigliata al girimento, però forse è più di più. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Dovare. Marchers! Hey, dangle fire! Tiras fennolente, passiamo gli immorali, no? Oi! Piggy boy! Vuoi un po' di questo? Pillman! Voi amore! Quick, march! Palleria, veloce! Palleria, veloce! Allora, voi così... Vai! Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni! Uh! Sfondati però, dai! Vai! Termina battaglia! 570, giustamente un assedio 1102 Ne abbiamo uccisi tutti! Molto bene! Occupiamo, ovviamente! Abbiamo perso tutta unita L'orgoglio di perdiche, ok! Missione completata! 1250! Fazione distrutta, Egipto! Fazione distrutta, quasi! Perché dobbiamo sistemare... Ah, no! Questi sono Ateniesi! Madonna, mi ha preso un colpo! Ottimo, allora! Un grande triunfo! перr麺e! Ti sono vissi! Vedno! Aurora?